Oh, e se va a leggere, stai. Che devo fare? Guarda là, guarda invece, no? Hai visto che è femmina? E che devo guardare più? E vabbè, c'hai ragione ormai, siamo sposati. Sposati, spostati. Proposto di sposati. Visto che ormai è l'amicizia da tanti anni, no? Sono amici. Ti sa che te lo posso chiedere. So che tua moglie ha un sacco di soldi. Beh, sì, sì. E perciò tu ti sei sposato per soldi o per amore? No, tutte e due. Tutte e due. Per amore dei soldi.